Laura Leonardo, Presidente di Occesano dell'Azione Cattolica di Modena, ha appena iniziato questo servizio e con quali aspettative ti poni nei confronti dell'Associazione e della Chiesa locale? Innanzitutto il primo sentimento nell'assumere questo incarico è senz'altro quello di una grande gratitudine e riconoscenza nei confronti di quelli che hanno lavorato in associazione prima di me e che hanno permesso anche a me di fare questa esperienza. L'aspettativa e la speranza è quella di fare in modo che l'Azione Cattolica possa essere ancora per molte persone quello che è stato per me, cioè un luogo di riflessione sulla fede, di relazioni autentiche, di corresponsabilità e di cammino insieme ad altri a servizio della Chiesa. Oggi che significato ha aderire all'Azione Cattolica? Possiamo dire perché personalmente aderisci appunto e cosa credi possa dare questa associazione appunto in più alla nostra Chiesa e alla nostra società? Penso che abbia senso aderire all'Azione Cattolica nella misura in cui l'Azione Cattolica è una proposta di formazione nella misura in cui è spazio educativo per le persone proprio per i valori fondamentali dell'Associazione cioè appunto una riflessione sulla fede come ho detto anche prima un luogo in cui confrontarsi e collaborare con gli altri è un luogo in cui adulti, giovani e ragazzi si offrono reciprocamente una testimonianza di fede inoltre devo dire che la struttura dell'Associazione permette alle persone che ne fanno parte di assumere una responsabilità forte e stabile anche di servizio alla Chiesa una partecipazione responsabile a questo servizio quindi anche questo credo che sia un valore molto importante ecco credo che ancora oggi l'Azione Cattolica possa dare questi valori e possa essere a servizio anche della Chiesa locale Un'ultima cosa hai parlato di ragazzi, di giovani e di adulti quindi un'esperienza intergenerazionale di laici, di persone quindi che studiano e lavorano insomma che hanno meno tempo anche forse da dedicare in un qualche modo al servizio ecclesiale è anche per questo forse che c'è bisogno di più Azione Cattolica? Sì, penso proprio di sì penso che questa sia una sfida non solo per Azione Cattolica ma per tutta la Chiesa e la voglio riformulare con le parole che il Papa Giovanni Paolo II aveva rivolto all'Azione Cattolica ormai dieci anni fa ma che penso siano ancora attuali e cioè la splendida avventura di far incontrare il Vangelo con la vita e senz'altro questo passa attraverso la partecipazione dei laici alla Chiesa questo richiede impegno a persone che già svolgono ruoli a tutto campo in abito familiare, lavorativo, di servizio, di animazione ma è il passaggio necessario penso che sia possibile coinvolgere più persone in questo servizio se il servizio diventa anche un momento di crescita, di formazione quindi di rinnovamento spirituale per le persone cioè diventa un luogo bello che fa incontrare un'esperienza buona se sarà così allora penso che sarà più facile anche prendersi il carico di impegno di fatica che comunque fare un servizio nella Chiesa comporta